Lo sportello del Cittadino e Polifemo si stanno occupando delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della consacrazione del Santuario Nostra Signora di Fatima, sito a Talsano Taranto. È un momento importantissimo e davvero toccante per la comunità religiosa di Talsano e di tutta la provincia ionica. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli eventi celebrativi del 13 maggio e naturalmente saremo presenti con le nostre telecamere e i nostri microfoni quel giorno. Anche quest'anno viviamo la festa della Nostra Signora di Fatima, un evento importante per la borgata di Talsano e soprattutto molto sentito da qualche anno a questa parte. Siamo usciti lo scorso anno dal centenario, dal celebrare il centenario, dalle apparizioni. Quest'anno invece abbiamo una festa più interna, quella che è il sessantesimo di erezione canonica di questa parrocchia, quindi 60 anni che questa parrocchia è sul territorio talsanese e che comunque è un punto centrale, un punto di riferimento per tutta la comunità di Talsano. Quindi vogliamo celebrare Maria e dare a lei tutta l'onore e la gloria e in più comunque vogliamo anche celebrare questa comunità cristiana che vive la sua fede intorno alla figura di Maria, la Nostra Signora di Fatima. Abbiamo incominciato già ieri con la novena, dal 4 fino al 13. In questa novena sto trattando personalmente l'esortazione apostolica di Papa Francesco, quella sulla santità. Gaudete ed esultate, rallegratevi ed esultate, perché è una bella notizia sapere che tutti quanti abbiamo la possibilità di diventare santi. E poi altri impegni e altre attività che comunque contraddistinguono questa festa. Stasera, sabato, avremo il concerto dallo splendore della Belle Epoca alla trincea della Grande Guerra. Che c'entra con Nostra Signora di Fatima? Noi sappiamo che Maria nel 1917 disse alla popolazione del mondo di pregare perché se avesse creduto e pregato la guerra sarebbe terminata. Parliamo della Grande Guerra, il primo conflitto mondiale. E quindi un intervento di Maria per quanto riguarda un discorso di pace. La pace che parte dal cuore degli uomini. Quindi stasera attraverso un concerto rievocheremo un po' questo evento importante e meraviglioso. Domani sera avremo un gruppo di lecce della parrocchia San Massimiliano Colbe con il suo parroco che celebrerà l'Eucaressia e poi animerà la messa a un gruppo gospel di questa parrocchia e subito dopo si tratteranno per qualche altro canto. Mercoledì 9 maggio invece avremo una festa tutta familiare con tutti i gruppi della CR, quindi più di 500 bambini che sono impegnati comunque a fare festa intorno a Maria attraverso quello che è il loro spirito e quella che è la loro caratteristica. Gli altri appuntamenti importanti verranno poi alla fine della settimana che coincidono poi con il trido finale. 11, 12 e 13. L'11 avremo qui a celebrare con noi Don Gigi Ciardo che è il parroco di Alessano e quando parliamo di Alessano ultimamente sappiamo bene che parliamo di Don Tonino Bello col fatto che il Papa c'è stato quindi Alessano adesso è saltato agli onori della cronaca quindi un po' di più si conosce questo profeta dei nostri tempi e quindi sarà lui che è stato amico intimo a Don Tonino venire qui a parlarci di lui e poi qui ci sarà l'ultimo libro sulla storia sulla vita di Don Tonino che sarà presentato Don Tonino sentiero di Dio. Quindi quel giorno sarà presente il presidente dell'associazione Don Tonino di Alessano, il sindaco e Fabio Zavattuaro, il vaticanista a presentare questo nuovo libro su Don Tonino Bello. Il 12 invece avremo un incontro di santuari, il santuario di Laino Borgo, il santuario di Erchie e il santuario di Carpignano che verranno qui, concelebreranno e in più portano con loro quelle che sono le bande del loro paese, l'espressione della banda del loro paese. Quindi sempre tutto in onore di Maria. Sarà presente anche la sera del 12 tutte le associazioni che fanno capo al gruppo di preghiera di Padre Pio della nostra diocesi con Don Giuseppe Ancora. E poi naturalmente terminata la celebrazione eucaristica, così come è tradizione voluta nel 1981 da Monsignor Motolese, che poi è stata la prima naturalmente processione di Fatima, la fiaccolata che partirà dalla Contrada Spagnolo, dall'entrata di Talsano fino ad arrivare qui. È una fiaccolata di preghiera, anche quella per la pace, per l'amore nei cuori degli uomini. E parteciperemo tutti quanti in massa. E giorno 13 la festa. Anche qui quest'anno c'è una novità nella nostra festa che poi è un evento di grazia. Un nostro seminarista, Maurizio, riceverà durante la messa delle 11.30 la missione agli ordini. È il primo passo, il primo sì che un seminarista che si sta preparando al sacerdozio, dice dinanzi alla chiesa. E lui lo pronuncerà proprio in questa festa della Madonna, perché la Madonna veramente possa benedire il suo cammino. Celebra la messa il nostro arcivesco, Monsignor Filippo Santoro. Nel pomeriggio la messa alle 17.00 e subito dopo la messa ci sarà la processione per le vie della nostra borgata. A rientro animerà la serata i tamburellisti di Otranto. Anche qui un gruppo di tamburellisti composto da bambini, adulti che cercheranno comunque di animare la serata e quindi rendere più lieta tutta la festa. Quindi un po' questi sono gli appuntamenti che ci vedono impegnati in questa settimana. L'invito è a far sì che tutti quanti possano partecipare a questo evento, a questa festa e soprattutto al momento di spiritualità che è quello della novena, attraverso la preghiera. Perché non ci dimentichiamo che tutti questi eventi e tutte queste serate comunque hanno come fine cercare comunque di coinvolgere le persone a vivere un'esperienza di fede e di spiritualità, così come proprio Papa Francesco ci dice in questa e in sua ultima esaltazione apostolica.